Il Monarca delle Indie Il rapporto di chiunque con il padre è evidentemente una circostanza molto importante della vita di ciascuno e certamente è qualcosa di fondamentale nel caso di Giacomo Leopardi. Leopardi come sapete nasce a Recanati in un bel palazzo nobiliare della sua famiglia, i conti Leopardi, e la famiglia è il piccolo potentato del luogo. Se siete andati nella sua casa si capisce immediatamente il tipo di atmosfera che lui respira, che è un'atmosfera di totale distacco dal famoso villaggio, quello del sabato, per cui gli altri tutti fanno parte di una comunità e sostanzialmente i Leopardi sono quelli che stanno sopra la domina. Il che spiega anche in parte il disagio di Leopardi che deve fare il continuo dentro una società che invece si muove con maggiore libertà, dove stanno Silvia, eccetera, eccetera, tutti i personaggi che conoscete dalle poesie. Ma soprattutto c'è questa figura del papà, Monaldo Leopardi, il vecchio conte Leopardi. Monaldo Leopardi è un possidente, è anche una persona molto colta in verità, e scrive parecchi libri che sono stati variamente stampati. Poi all'epoca ce ne sono pochissime copie, è molto difficile averle non così interessanti, ma anche ristampati. Uno per esempio è La città della filosofia, un dialoghetto è stato stampato qualche anno fa da un piccolo editore, ce n'è un altro più famoso. Sono libri in cui Leopardi, Monaldo, il papà, manifesta delle posizioni fortemente reazionari. Cioè lui appunto, piccola nobiltà di una piccola città di provincia, non ama tutto quello che è successo ovviamente con la rivoluzione francese, eccetera, è un grande restauratore, papalino, insomma, è una persona da posizioni rigidamente conservatrici. E questo è un oggetto di grande contenzioso con Leopardi, Giacomo, al quale capita di andare in giro e di essere scambiato per suo padre. Dicono, a lei è quello che ha scritto dei famosi dialoghetti che erano quanto di più ritrivo, reazionario e codino, c'era in giro. E Leopardi si scoccia moltissimo perché dice, no, io non sono mio padre, sono un'altra cosa. E questo rende i rapporti particolarmente difficili. E quindi Leopardi, da quando è giovane, giovanissimo, ventenne, ventunenne, cerca di scappare da Recanati, ma non ci riesce. E questo è oggetto di numerose corrispondenze con il padre. Carissimo signor padre, ma vi sembra che uno scrive così al proprio padre? Va bene, siamo nell'Ottocento. Questa è una lettera da Firenze del 1827. C'è una difficoltà di rapporto tra Leopardi e il padre assolutamente totale. Tutte queste lettere fanno vedere, sono tante, vedete, fanno vedere questa totale, assoluta difficoltà. Intanto sono molte di più quelle di Monaldo, il papà al figlio. Il figlio gli risponde poco, gli risponde poco, gli risponde in maniera molto formale. Appunto, carissimo signor padre, è vero che anche Monaldo gli dice mio carissimo figlio, ed è vero che all'epoca usava dare del lei a propri genitori. Però la formula anche che usa Leopardi, carissimo signor padre, le scrissi già il 26 del mese scorso in risposta all'amorosissima sua del 16. Questo è per dirle che io a Dio piacendo parto per recalati dopo dimani tre dell'entrante. Capite? È una roba burocratica. Non c'è amore, non c'è affetto. Leopardi non ha mai amato suo padre e questo è uno dei problemi storici della sua vita e della sua poesia. Non è tanto che poi lui non riesce a intrecciare rapporti con le altre persone. Lui non riesce a intrecciare rapporti col suo papà. E il suo papà in realtà è un personaggio che per carità è retrivo, è cotina, è rezzanario, tutte cose che sono state dette e sono verissime. Ma è anche uno che si fa in dodici per potergli procurare i libri di cui ha bisogno per studiare. Ed è quello che ha creato la biblioteca famosa in cui Leopardi studia tutta la giovinezza. E quindi in realtà tra i due alla fine Monaldo, il papà, ne esce malissimo perché tutti noi studiamo Giacomo e diciamo poveretto, sottoposto alle ubie di un padre così difficile. Ma di fatto il padre, se lo si studia bene, non è così negativo. È tutto nell'ambito di un rapporto complicato. Se qualcuno di voi ha mai letto qualcosa di Kafka, sa che Kafka ha avuto con il padre un rapporto parimenti difficile e delle difficoltà che sono molto simili. Sono difficoltà certo che hanno a che fare col carattere complesso di padre e della personalità forte, ma anche con la difficoltà dei figli di venire a capo di questi rapporti. che è un tema che tutti noi abbiamo, soprattutto alla vostra età, ma comunque che ci accompagnano tutta la vita.